Grazie a tutti. E' da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me, ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Goodsprings. Spero che non ti scorci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro da ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata. Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. V Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.